bella a tutti rega siamo su cat mario io ando qui vado con una mano perchè non parte si è bugato il gioco io sto premendo e coso il gattino non si muove muoviti gattino sono morto se vede che sono vestito in un modo strano è perchè ho finito da non si muove più il gatto signori ho finito da due ore e mezza la partita di calcio e infatti censuriamo qui il nome della squadra e qui fa niente e sto registrando con l'audio con questa musichetta di merda che non so neanche se la metterò nell'audio del video perchè non so se sovrasterà la mia voce però qui cat mario non funge cat mario andato qui perchè c'ho i download misteri oh è andato è andato vabbè vabbè stavo dicendo questo è il secondo episodio di rotto manico io ho curato tutto di prima signori perchè prima ho già giocato per prepararmi ho fatto tutto di prima e sono morto te una mano e siamo partiti no no ma si può balisent muore così lui jacopo mirabelli se stai guardando questo video beh non scherzo se è un grande appena ristabilisco la connessione al massimo le balene che volano su cat mario o censuriamo prima che qui stavo dicendo appena mi ristabilisco la connessione giocheremo di nuovo su ps4 le epiche battaglie le epiche battaglie si balisent si parrucca i capelli in diretta oh oh epico 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 no vai 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 così vai così vai così vai ma che cazzo sono i sassi i sassi mi ammazzano che ridono ancora sto cazzi mignone meno 23 siamo già a meno 23 perché come ho già detto prima censuriamo qui intanto moriamo sto non so se l'ho già detto sto registrando con queste perché qui da mio papà non le ho portate con le grandi e ora sto giocando dal portatile avevo fregato con la banela di merda e ora saltiamo così noi noi saltiamo sosi 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 è bellissimo da sentire ma non si può cadere così in anfermario e anfermario c'è un'anfermario raga ho caricato e tolculata ancora ho caricato due video in mezz'ora quello il primo episodio di rotto manicomio su anfermario e poi ho caricato quel video lì che tutti in pratica e anche io non si bloccava dopo 34 secondi ma che cazzo fa dopo 34 secondi quindi l'ho ricaricato con qualità di merda perché il problema era che quando lo renderizzavo su tube down anziché mettere mp4 alta qualità dovevo mettere la qualità di merda e ve lo caricava cioè non si bloccava alla fine e niente raga spero che lo apprezzerete lo stesso e guardate bene la descrizione perché ci sono due sponsorizzazioni su quel video noi intanto siamo qui sto cercando di salire ma non sale sali porco non cadere salto siamo ritornati di prima vai di prima vai di prima 3 2 1 così così ma perché non salti c'è un capello che spara t'ho inculato balena di merda e t'ho inculato anche a te tutto di prima raga tutto di prima ma mi mangiano le balene e mi mangiano le balene mi schiaccio balene volanti su infermario lo metto come titolo rotto manicomio 2 cat mario balene volanti metto qualcosa con maledette balene volanti perché se non metto volanti mamma mia come ho fatto io neanche io lo so sto giocando con la mano no che muoio me la son chiamata raga questa me la son proprio chiamata meno 36 non è niente non è niente siete transoli 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 porco devo fare tipo una sfida su infermario e su cat mario tipo tutto con una mano sarebbe strafigua se vi piace fatemi sentire raga stiamo crescendo sempre di più non caricavo video da due settimane ho caricato allora è difficile da spiegare in pratica ero 11 iscritti ho caricato un video eravamo a 13 e oggi vado a controllare gli iscritti stamattina eravamo a 14 stiamo crescendo ogni giorno di più raga e siete fantastici vvb vi voglio bene e noi siamo qui con un fermario di merda che non con meno e io non riuscirò mai a fare questi livelli di merda in questi giochi di merda tra l'altro ho visto non so se conoscete Fabi J e cat mario in 3d non l'avevo mai visto raga se vi cioè potrebbe esserci utile per questa serie qua rotto manicomio ma perché non salta raffica devi saltare raffica dunce 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 vai balliamo skrillex vai balla cat mario dunce e dunce guardate come balla con la manina in su oddio un sasso succhia mille siamo a 8 minuti se non sbaglio 8 minuti di video e tolculato foca foca o balena quello che cazzo sei non lo so di prima comunque cat mario non me lo ricordavo così tipo le nuvolette non mi uccidevano boh ok non ci arriva ah ma c'è che era yeah meno 44 famo così raga arriviamo a meno 49 e stoppiamo air video qui intanto freestyle freestyle cat mario freestyle cat mario freestyle cat mario freestyle ho preso il checkpoint 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 vai che era primo stellina piamosa stellina piamosa stellina piamosa stellina stelli di prima cat mario mario cat no ok qui di prima non lo posso fare perché cado sempre in una maniera di merda tra l'altro non posso urlare tanto perché oddio fermati c'è mio papà di là che si sta gustando milan napoli raga milan rapoli indovinate che squadra tengo indovinate che squadra no mi sono inculato mi sono inculato mi sono inculato non mi fanno anche scendere raga non mi fa scendere non mi fa scendere come cazzo muoio io qua scendi 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 oh là tra l'altro non so se avete sentito bene ma uno a uno milan napoli e il milan era pure in vantaggio quel cazzo di milan di merda che sono milanista no no mi sono inculato beh scendi oloce dai via oh censured censured by valison oh siamo a 49 raga vi direi di fare l'ultima morte così in stile figo no ora seriamente non devo prena no vabbè raga impossibile io intanto qui stavo registrando raga io direi che per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto questa serie a me mi piace quindi la continuerò lasciate un bel mi piace commentate fate quello che volete condividete anche il video su google plus su facebook domenette su le pare bella da balison bella